Come si dice? Come si dice audio in senese, va bene, audio, levo a voce, bravo, chi l'ha detto? Perché quando succede così che sono all'università, qualche d'un momento, come dice la frase giusta, le dico, lasci poi il nome un punto di più all'esame, o a chi, siccome dice il deviato, deve fare l'esame, va bene, fa sempre. Allora, o a chi, c'è a me a sinistra, forse, va bene, da quelle parti, va bene. Va bene, e cosa voglio ci dire? Allora, intanto ho detto, ho levato la voce al cellulare, è una cosa buona e giusta, quindi, se guarda che ti deviare, visto che non le ho conosciuto, non le ho conosciuto, non le ho conosciuto, non le ho conosciuto, non le ho conosciuto. Ora ufficiale della compagna 1703, chi ciancianì bisogna cominciare? L'altra volta abbiamo cominciato 1707, che le ho conosciuto, perché vorremmo andare oltre 1705. Però, cerchiamo magari le strenze, non le ho conosciuto, non le ho conosciuto, quindi ciancianì ha un scalo dei minuti ogni volta. Allora, a Maria, a Maria, anche io a venire penso un po' ci tardi, a se scusa di noi, a se scusa anche con Robi Carletta, con il nostro ospite, però penso che in sacro a faia, era bene. Allora, mi posso dire, io a ricordi, preparare sempre da Marcella Rossi Patrone, vi ricordo che poi sono messi anche là da Porta, quindi se qualche giorno gli interessa pigiare se notta, o se pigia notta, o va là, o se scrive quello che magari non vi interessa, tutti gli interessa, è un po' il lesilo là. Domani, 5 ottobre, sala del caminetto di Palazzo Ducale, proiezione, spirit for sale, spirit in vendita, non so, un film documentario sui nativi americani, e sarà presente Arbol Looking Horse, l'indiano, diciannovesimo custode della sacra pipa dei Lakota, Lakota e Nakota, che sai è Ivan Isiux, ingresso libero, quindi ecco questa cosa, di Isiux americani e di indiani americani che si sono messi anche insieme, che è stato una volta un articolo su Panorama, che hanno trovato il modo di fare i palanchi, proprio con la loro cosa, hanno avuto varie vicende, disavventure, perché bisogna di avere intenzione, che ne ha un fetto di piccolore, contro la degli altri. Giovedì 6, 14.30, visita guidata al laboratorio di legatoria della biblioteca Berlio, chi, sai, è interessante, se guarda che piace i libri, vede come si teniano i libri, eccetera, eccetera, però sai va bene prenotarsi, allora là, che il numero del telefono è 010 557 60 70 per fare la prenotazione, questo sai va, zè già dopo domani. E se non si parla. Ah, non si parla. No, no, ma non c'è questo, devo dire, devo dire, non devo dire che a Marcella sape, a mente tutta roba debata, perché gli altri se ne, ci siamo sensibili a queste cose qui, insomma, se invece gli ammalamenti, diciamo, vabbè, ma sai, chissà, ma vabbè, ma di ma, non è bello. Venerdì 7, a Trigoso di Sessere Levante, festa della Madonna del Rosario, con funzione religiosa e spettacolo pirotecnico, se possibile, poi chi ha fea, come tutte le fe, luterie, eccetera, eccetera. Possibilità di parcheggio e, ovviamente, come abbiamo detto prima, ingresso libero. Sabato 8, alla Sala dei Chierici, alle 17, quindi, dopo di SNA, a Sincue, Biblioteca Beria, convegno, ricordando Lea, il convegno vuol ricordare la figura di Lidia Lea Unsaldo, fondatrice e direttrice della scuola teatro L'Atelier, attraverso racconti di attuori, intellettuali, scrittori, registi, eccetera. Ingresso libero a me qui. Sembra Sincue, Manuazena, a Santa Margherita, spazio aperto, via dell'Arco, che devo dire, fanno sempre delle belle riunioni, magari anche il Venocajun, quando arrivi a Santa Margherita, che è il posto bello, poi, tra l'altro, vicino alla stazione, ufficio postale, parleranno unità e federalismo, che tipo di convivenza dopo 150 anni di storia nazionale, conferenza a cura di Marcello Staglieno. Marcello Staglieno, non so se vuoi ricordare, un esteto giornalista del giornale, un esteto parlamentare da Lega, e leonevo di Marcello Staglieno, quello dell'Ottocento, quindi quello che l'ha fatto a prima acquigetta, non so, dei proverbi senesi, è lui. Ovo, credo che Marcello Staglieno sia a carro, patria di Paganini, tutti Paganini venivano a carro, ci vengono da sciocchi a cena, poi gli evocaciosi a casa, però tutti Paganini venivano a carro. Domenica, domenica 9, ore 12, campo sportivo di Fontanegli in Val Bisagno, sacra folcloristica della Castagna, sempre che Castagna che seggio, anche perché parte non è short and way, ingresso libero. Vabbè, 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 che Castagna, che enorme, dove sei che manca a me, vabbè, però lunedì 10, 17.30, Sala del Cenacolo Confindustria a Via San Vincenzo, presentazione con l'autrice del libro di Caterin Spack, Amore Blu, ingresso libero. Alle ore 17, ma le anno di lunedì, sempre Biblioteca Medio Sarra dei Chieri, ci consegna il premio Mario Novaro per la cultura ligure a Adriano Sansa, che mi ricordo l'esteto, beh, tutti ho conosciato, quindi mi devo ricordare, Adriano Sansa, ma l'esteto l'anno passato, c'è una bella conferenza qui, ma è proprio l'ultima, quella che la serò, e tutte le gente che gheano, che magari solo ricordano, sono state tutti contenti, è stata veramente una bella, un bel incontro, e veramente è stato bello e interessante. Martedì 11, nello splendore della Sala Borrandi di Storia Patria, come un medico genovese racconta la storia, la pratica, la diffusione della circoncisione rituale, a cura di Carlo Falcani, ma quello con l'esastretto, no, non è nato. Va bene, questo sarebbe gli appuntamenti, i miei due appuntamenti, ve ne dico anche nato e miei, Anche lì, no, non c'è l'esibizione della pratica, non c'è nessun laboratorio sperimentale. Giovedì 6, a 4.00, alla Biblioteca Berio, ci sarà un incontro, chi che cao venia in questo debatto, dove saranno recitato quel fattaccio di via Merulana, poi che infigio e pure città un'altra cosa, e che in film dove che su un mio e qualche di un altro vi spieghiamo qualcosa di Sena, nemmo ci pesena. Alle 17? Alle 16? E allora, a un'ora imprecisata, tra le 16 e le... 17? Alle 17? E cosa scrive? E no, che capisco, perché mi lo compiode là? Io ce l'ho scritto 16. Va bene, alle 17? Va bene, ma se veni a 5 e invece le ha 4 e le tue figlie, è uguale. Comunque le debatte non paga e dite, deve entrare più ciò che in questa cosa qui. L'altra cosa che peggio dì, che da un tasso e già invece col secolo usciranno dieci volumetti di una collana Bulesume, che è curata da me, dove si parlià di tante cose scritte in genese, di racconti, di barzellette, di poesie, di basi galù, in sciù Natale, insomma, sono 10 librettini di una quarantena delle pagine che vengono andate con un secolo. Ogni settimana, settimana che ne viva un libro di come pacole, eh? No, quanto costa non mi interessa, scusate, quanto costa non mi interessa, anche per il motivo, minore più di un guagno un franco, l'ho perdita, ne sono detto da fare, lo messo insieme, eccetera, ma io non ci guadagno niente, come da tutte le attività che faccio. Quando guadagno qualche franco, lo porto a compagna, che è associazione senza scopo di lucro e che quindi le istituzioni possano badare, minore più di un franco. Devo dire che quando vado a un televisione e poi finisco, teni presente che ogni volta che sono lì, come minimo mi costa 2 euro. Quindi ogni volta che mi vede, 2 euro perché è il parcheggio. Quindi questo non è un guagno che faccio, eh? Però, mecca a parlare bene. Robi Carletta. Come, bene, 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 come si fa? Vecunto questa, vecunto, perché così per presentare Robi Carletta, che è una volta, e così ricordo Enrico Carbone, con l'esterno nostro presidente, presidente della Consiglietta Ligure, con l'esterno Gran Cancere per il vicino del tempo. E una volta che ho chi, che dovevo presentare al d'agosto, pigi un microfono per di due parole, e mi fa, ma ti presenti Enrico al d'agosto? Perché era, allora, molto conosciuto, stato il nostro vicepresidente, direttore dell'archivio di Stato, direttore in merito dell'archivio di Stato. E un meccimo succede con lei, succede con tante persone. Una persona, come Robi Carletta, qualunque cosa dici, te ne dimentichi, te ne dimentichi mille. Allora, fa sotto l'offetto quando abbiamo avuto Vittorio De Scalzi, che è, altra situazione uguale, cosa dici di Vittorio De Scalzi? Sì, sono conosciato tutti, e allora, ciò che non dici niente, maliziosamente, come ti dici, ti, maliziosamente. Invece non volevo ricordare Robi Carletta come interprete del costume, dei modi di dire, del carattere dei genovesi. Ti hai scritto due libri, credo che quello lì, io seguo il secondo, proprio i genovesi, eccetera, e mi piace ricordare di dire, io ho fatto tantissime cose, cabaret, persone conosciute, però questa sua figura, di essere intero, del carattere dei genovesi, allora è quella che mi piace, che come unica cosa ricordare. Robi Carletta, cosa c'è da dire? Robi Carletta. Lo starei a sentire per tutto il pomeriggio. Dunque, sai che quando andavi a scuola, se incominciavi con a loro dunque, dicevi, torni pure a posto perché non va bene. E io ero specializzato, zero. Intanto, viva i franchi, nel senso che oggi è San Francesco, perché i genovesi, c'è vero, viva i franchi, invece no, oggi è San Francesco, da sì, allora tutti i franci, franceschi, compreso l'amico Bampi, e anche ho visto Franchino Piccolo, raggiù in fondo, e tutti i franchi che sono qui presenti, quelli che ci sono e soprattutto quelli che non ci sono, che non ne abbiamo mai, noi pensionè, viva comunque i franchi. Facciamo un applauso che intanto ci scaldiamo un po', e facciamo di prezzo. Ringrazio lui che è un vulcanico, diciamo, presidente, perché oggi da quando è arrivato Silvio, su tutti i presidenti, anche quelli della Bocciò, tutti tengono a diventare presidente di qualcosa. e allora lui, chiamiamolo su presidente, anche se console, pro console, ambasciatore della ligustica, del territorio, di tutto quello, è veramente un vulcanico uomo che grazie a lui stesso, all'associazione, a voi che lo sostenete fortissimamente, siete riusciti a dare un forte grido di Genova, della Liguria, laddove c'era veramente il buio, e il silenzio totale. E io mi aggancio un attimino al mio amico Antonio Ricci, che dice che la Liguria è una regione come un sorriso alla rovescia. E diciamo che invece Bambi è riuscito questo sorriso a accederlo e a farlo rovesciare davvero. Poi voglio fare, grazie, doveroso, se non capite qualche cosa, fate un segno che ve la ripeto, perché io so che qui non è che siamo tra ragazzini, che non è un circolo dei Boy Scout, qui cia cia di Gariglievo. Poi, un ringraziamento carissimo a Marcella Rossi Patrone, che guarda, quando una ti chiama con due cognomi, dici, Belin, cosa vogliamo? Cosa vogliamo? Io quando mi ha chiamato sono Rossi Patrone, ho detto, Belin, qui sarà un soppiato qualche casino, perché ti chiamano solo parole, e ti tranquillisci, ma Rossi Patrone, sono Rossi Patrone, non c'era così, potrebbe venire gratis. Subito, una brutta notizia, tappa, la dà nessuno. Un anno fa, un anno fa, che io ho detto, ma lo sarebbe, perché, ecco, sarà difficile che questo, no, era dato, alla fine del 2009, al 2010, guarda, che alla fine del 2011, avremmo piacere, la gente ride, perché se fanno, uno va a queste cose qui, come diceva Vittagini, nella corazzata Ponzio, sono delle menate, paziente, io lo so che voi avete il coraggio di venire a quelle cose, che ho detto a lui, lo fate anche per piacere suo, della signora, qualche parete, ma ci saranno delle rotture di palla, lì c'è di aria, quindi, ritornando a lei, mi ha telefonato, un anno prima, e lei ha detto, che così ti puoi preparare, vedi, ma quante cose devo dire, per un anno, mi ha spaventato, è un anno, mi sono teso, in attesa di questo momento, tant'è vero, non mi ricordo, quindi, sono preso due appunti, proprio con la scaletta, scritta ancora a mano, se non facevo una volta, allora, è venito a noi, che sei sempre quella, non è il cibo, rimasto in balza a balza, ma proprio come, e ormai, questo è il nostro destino, rimanere in balza a balza, non si ferma, allora, il ringraziamento, l'ho fatto, dunque intanto, qualcuno dice, ma, parlare dei genovesi, non è che sia una impresa, tanto facile, parlare dei genovesi, a parte che uno entra qui, al palazzo locale, vedete, facevo notare l'amico, il nostro amico giornalista, che c'è, la fontana rosa, l'hanno dipinta di rosa, tutti i bullici saranno, perché, vieni quello sotto, con la chitarra, un sacco di guadorini, vieni, non c'è, quasi un bianco, e facciamo la giornata genovese, quindi, siamo proprio, come il WWF, i pantalos, in estizione, comunque, comunque, il, lui non mi ha voluto presentare, perché, quando uno presenta a me, su cosa, cosa, cosa vuoi presentarti, alla vita, e io invece, voglio dire qualcosa su di me, perché, molta gente, magari, non sa esattamente chi sono, dunque, intanto, io sono affettuosamente, chiamato, abbiamo anche la televisione, il telecondominio, ma, dove vieni? Sei sempre, sei iscritto, l'hai pagata la quota, e noi, mi fanno presa, sai, poi, fanno, cambio a merce, col film, doveva arrivare a tratta, vado su YouTube, perfetto, sono il primo, guarda, il mio primo YouTube, perché, mi ha chiesto l'altro giorno, ma non la vedo mai, su YouTube, ma questo vuole, allora, affettuosamente, i cavarettisti, i giovani, i cavarettisti genovesi, mi chiamano, Zio Roby, e a me, tutto sommato, questa cosa, mi dispiace, perché, tutto sommato, con i tempi che corrono, è meglio essere chiamato zio, che papi, anche perché finirei per diventare il pedofilo del cabaret, quindi, Zio Roby va benissimo, qualcuno dice che io sono la memoria storica del cabaret genovese, io invece mi considero l'alzailer della battuta, nel senso, che so come cominciare, e non mi ricordo più come finire, e non so, e non so come finirà, l'altronde c'era Gino Bramieri che diceva, non ci sono battute nuove, ma ci sono persone che se le dimenticano, in effetti è vero, io che ho avuto la fortuna di nascere in una città di anziani, con rispetto vostro, perché, se no, chi viene alle 5 del pomeriggio, con un caldo della Madonna, o ti imbelinano fuori di casa, oppure, voglio dire, tutta gente che, uno che lavora, non è che gli viene il che, come si dice, come si affermano, andiamo a prendere un gelato, ciò che ci siamo, ciò che facciamo sciogliere, mentre parla a carretta, allora il Bramieri diceva, non ci sono, e allora io sono nato in una città di anziani, e fortunatamente, essendo anziani, molti si dimenticano le cose, io a 40 anni che dico sempre le stesse cose, non se ne è mai accorto a nessuno, perché questo è un vantaggio comunque, poi, le cose che succedono, a Roby Carletta, guardate, io sono 40 anni che cerco di fare ridere, vi racconterò poi la mia storia, poi arriviamo ai genovesi, perché io racconterò i genovesi attraverso la mia storia, e verranno fuori dei personaggi, tanti personaggi, e a un certo punto, io 40 anni, dove ho fatto centinaia e centinaia di spettacoli in tutta Italia, decine e decine di convention in tutto il mondo, a passi a Australia, sono andato a fare convention ovviamente, ho fatto decine e decine di crociere, sulle navi russe anche, soprattutto sulle navi russe, 15 anni di navi russe, e non ce n'era da da, ma non te la dava mai nessuno, perché allora qualche da da, mica, poi, ho scritto dei libri, ho fatto della televisione, ho girato dei film, con Vanzina, e con Pupia Vatti, anzi, ne uscirà uno adesso, che si intitola, il cuore grande delle ragazze, a novembre, dove io faccio la parte di un medico cardiologo, che faccio morire, Andrea Roccato, non so se, e lui muore, perché a furia di ripetere la parte, per fare il mordo, non respirava più, dice, sta morrendo davvero, furi di tenere il respiro, e perché, va bene, ma questo è un altro discorso, comunque, parlando di Pupia Vatti, con il quale siamo veramente diventati amici, ogni volta che lui, va a presentare i suoi film, prima, anzi, l'altra volta ha tirato fuori una battuta, dice, io voglio essere immortale, e allora una signora ha detto, ma maestro, lei lo sarà, perché ha lasciato, lascerà tutti questi grandi film, dice, no, voglio essere immortale, nel senso, che voglio continuare a mangiare il gelato, perché lui è un grande appassionato, e Vatti, ho scoperto, che è un grande cabaretista, è un grande intrattenitore, è uno che quando deve presentare un film, sta due ore a parlare con la gente, raccontando la sua vita, e secondo me, oggi, si è perso un po', il piacere, soprattutto nel comico, di raccontare, di fare il monologhista, ormai i comici fanno i personaggi, c'è quello lì che fa, non so, il pizzaiolo, quell'altro, ma come si chiama, ma non lo so come si chiama, però è quello che fa, sai quello che fa lo scemo, che fa il muratore bergamasco, ecco, e non sai quello, invece una volta c'era Walter Chiari, c'era Bramieri, c'erano questi personaggi, l'unico che ancora è riuscito a fare un monologhista, che riusciva a fare i monologhi, è il nostro amico Beppe Grillo, che, devo dire che, uno spettacolo deve essere raccontato, e raccontarsi, dicevo, dopo tutte queste cose qui, che ho girato dei film, ho scritto dei libri, eccetera, io cammino per la strada a Genova, tant'è mi guardano col filo dell'occhio, e piuttosto, di darmi la soddisfazione, di avermi riconosciuto, si mangiano un topo morto, perché questo è il carattere dei genovesi, poi qualcuno ti dice, ti posso presentare a una bicierletta, diceva, ah, mi sembrava che ci assomigliasse, beh lì ci assomigliasse, sono io, perché, allora, è sempre così, poi quando giri per la strada, ti vedono, ti guardano, eh, non ti guardano, nelle botteghe, non ti guardano, poi senti una bottega, e dici, eh, è trent'anni che la seguo, ben i trent'anni che mi segue, non mi ha cagato finché non sono entrato, non ti guardano l'occhio, non so, è il mio, 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 poi c'è sempre qualcuno, che vi vuole raccontare le barzellette, perché dice, se è caparettista, è comico, gli raccontano la barzelletta, così poi lui la racconta, che poi non se le ricorda, delle menate pazzesche, che non c'è, il peggio, il peggio del peggio, quando qualcuno che ti vuole, che ti dice, la sa, la so, e poi raccontano lo stesso, allora, raccontare una barzelletta a un comico, è come, non so, cercare di insegnare l'italiano a Di Pietro, non so, il settimo comandamento a Berlusconi, non rubare, non ci riuscirete, mai, mai, ma la cosa più forte, che mi succede, è quando, la gente ti guarda, e ti fa, ma pa, ma pa, ma pa di conoscere, e allora, quando ti dicono così, che cosa vuol dire, capisci una grande cosa, la differenza, che passa tra essere famoso, e essere popolare, essere conosciuto, diciamo, perché il famoso, che è Vasco Rossi, Fiorello, la Marta Vincenzi, il negativo, per dire, però sono conosciuti, invece, famosi, voglio, sono famosi, invece quello conosciuto è, c'ha una faccia, che la conosco, ma, non mi ricordo più come si chiama, oppure, so chi è, però, lì, l'ho visto già da qualche, e non riescono a, a collocare, lei si chiama, Barnetta, lì no, Barnetta no, Bobbi, eh no, Bobbi, no, Bobbi, non mi piace, Bobbi non mi piace, allora, sono andato al mercato orientale, sai quando prendi i numeri, dalla quello lì del formaggio, che uno dice, ma questa qui è una conferenza, ma secondo te, uno come me, può fare dei discorsi, e ti parla di formaggio, eh sì, ti parla di formaggio, a seconda di come viene, perché non è, che uno dice, mi sono preparato, questa è venuta così, allora, allora prendi il biglietto, fai la coda, ti metti tranquillo, e aspetti il tuo turno, perché aspetti che esca fuori, il numero, no, e allora il formaggiaio, questo è successo, con pieno di gentili, mi vede, e mi fa, ma lo sapevi che è in questo momento qua, lo sapevi che è quel signore, guardandolo un po', questo qui, e io, volevo, sprofondare una vergogna, si sono girati tutti, tutti, mi hanno guardato, e hanno detto, ma chi è venuto, peggio, peggio, e lì che bombigarreta, caramettista, anche di cui, c'è un cabaretta, caramettista, quindi, ho peso, ho peso, va bene, comunque, io ho scritto, un libro, dunque, prima di leggervi qualcosa del libro, vi voglio raccontare una cosa, che io ritengo abbastanza interessante, come mai io mi trovo qua? Adesso a dicembre, faccio 65 anni, e io ho incominciato a fare il Belinone a 14, quindi andavo al nuovo Lidio di Genova, e come tutti i comici, ho iniziato a fare le imitazioni, perché il comico, sente di dire qualcosa, ma non avendo ancora un autore, non sapendo qual è la sua anima, va a cercare le anime degli altri, e quindi al tempo, io facevo l'imitazione, di Carlo Tenuto, di Fabrizio, Tottottina, Picca, tutti quelli che erano i personaggi, che sono quelli che voi, in questa età, mi ricordate abbastanza bene, e soprattutto, facevo abbastanza bene Gilberto Govi, al punto che, andando in questa scuola, che era Lugolino Vivaldi, a Genova, che adesso non c'è più, erano tutti ragionieri, sono usciti dei ragionieri, guardatevi da lì, sono uscito io, Beppe Grillo, già quello, ti dice, e l'hanno subito chiusa, è vero che adesso, un gran bazzari, via San Vincenzo, Lugolino Vivaldi, e avevamo fatto una rivista, dove io avevo fatto Govi, insieme a un mio amico, che si chiama Remuzzi, è stato poi diventato condirettore generale, alla banca Carigia, e lui si vergognava come un raro, perché quando entrava la Carigia, dico, guarda che ho le fotografie, che facevi la Gigia, quindi non fa tanto il film, e lui era vestito, da Gigia, io entravo, truccato da Govi, e faceva, lei stirava, e faceva la solita battuta, e mi guardava, cosa ti fai, e io dicevo, Gigia, secondo te, in queste brache, ci vedi la rega, perché allora, l'ultima volta, che ci hanno fatto la rega, ce l'ho fatta io, con la mattina, Vinto da questa mia dote, in mitoriale, Goviana, cosa faccio? A 16 anni, vado in piazza della Vittoria, a 10, interno 11, dove era residente, e come datore, e la scena, si svolge così, io vado col geloso, con un ricordato geloso, dove c'era la mia voce, che dice, Gino, come sta, con la mattina, tutto registrato, suona la porta, e come, ed uso a Genova, qui rientro, mi aprono con la catenella, adesso c'hanno, ma prima c'avevano la catenella, lui c'aveva anche un'altra cosa, il canelupo, quindi catenella e canelupo, cosa vuol dire? Senso dell'ospitalità, già da lì capito, io che avevo un terrore dei cani, sento questo cane, che sbraitava, in maniera bestiale, ero già lì che tremavo, come una foglia, chi mi ha fatto affare adesso, e la cameriera, che una volta si chiamava, non serve, la serva, a me non mi dispiace, dire la serva, ma se dice la serva, vengono i sindacati, tutto un casino, e lei ha detto la serva, la serva, viene e dice, chi ha lei, tipo la Caroline, la vecchiana Caroline, chi ha lei, dico, sono lo studente del Ugolino Vivaldi, vorrei parlare con il commendatore Govi, un attimo che vedo, cosa deve vedere, perché, classico eh, qualche al telefono, un attimo che vedo, i gennavesi vedono sempre, e l'altro, che dovrebbe essere venuto, dice, cosa rompa, o bene, guarda, questo proprio, allora, mi fanno entrare, io tremante, entro in questa casa stupenda, in questo salotto meraviglioso, grande, da cui si capiva già, che lui, era un grande, ma soprattutto, era molto egocentrico, come spesso succede, un ea ambizioso, e qui poi ricordatevi sta cosa, perché devo raccontare l'aneddoto, sull'ambizioso, perché vedi come si svolge, un po' il discorso, e, eh, io, mi accomodo sul, e vedo che c'era una grande scrivania, dietro c'era una statua marmorea, che rappresentava se stesso, un grande quadro, quasi pirandelliano, dove c'erano due dipinti, lui, come uomo nella vita comune, e il personaggio che faceva, nelle sue commedie, poi c'erano autografi, di tutti i generi, fotografie autografate, ma personaggi, Ermede Zacconi, Eleonora Duse, il Papa Pio XII, i Samoia, dico, bellicite, con tutta, io adesso qui, che vengo anche da San Fruttoso, smanco il micro di Dico, la situazione si era fatta un po', effettivamente, c'era l'adrenalina, e si presenta a lui, con i capelli bionchi, tutto vestito, con la sua, allora, si usava, c'era la persona con la vestaglia, lì, che oggi, se vedi, ti apri la vestaglia, dico, a bolliccio, subito, allora c'era tutta la vestaglia, eccetera, e mi dice, prego, si accomodi, mi accomodo, dice, allora che, come mai, guardi, mi scuso, io sono già abbastanza imbarazzato, perché, sto pensiero di venire da lei, su una campanella, un cane, una catenella, se mi dicevi, eccetera, io sono studente, l'ugolino Vivaldi, che vorrei fare l'attore, e, dato che a Genova non c'è niente, ho pensato che l'unica persona, cioè, in quel momento, era colui che riusciva, a non far camminare nessuno per la strada, perché, quando vi ricordate, c'erano le sue commedie, Genova era, come si fosse, stati mondiali di calcio, i tempi di, di mai buongiorno, lascerà dopo, cioè, praticamente, la gente che rimaneva, sbalordita davanti a, il bianco e nero, dico, sono venuto da lei, per farmi dare un consiglio, consiglio, che cosa fai, dico, faccio il terzo anno di ragioneria, come va a scuola? Scusi, se andassi bene, non verrai mica qui, scusi anche, comunque, ho portato il geloso, e quindi, dato che ho fatto un'interpretazione di Govi, al Teatro Margherita, con la Gigi, eccetera, voglio sentire se lei, attraverso questa interpretazione, intramene qualcosa, dice, guarda, lei c'ha la, c'ha la spina, metta pure il geloso, sentiamo, vediamo, ecco, parte, lo sketch, io lo guardo, tutto serio, io lo guardo, serio, niente, diciamo, a un certo punto, finisce, e mi fa, ma Govi non è che parla così, dico, scusi, in che senso, ma Govi, ogni volta che io faccio un'interpretazione, la voce cambia a seconda del personaggio, a me sembrava sempre uguale, e mi comincia a dire, guarda, fare l'attore, prima bisogna prendersi un diploma, studiare, attori ignoranti, non si può essere, è una cosa, è un lavoro di sacrificio, non lo faccio, lascio perdere, ho tante delusioni, e mi fa tutto un pane a giro, e alla fine, mi dice, beh, allora l'accompagnerai all'ascensore, io tutto moggio, moggio, col mio geloso, si faccia rivedere dopo il diploma, io ho pensato, mi mancano due anni, teoricamente, ce ne metterò quattro, lui sarà ancora vivo, è un ragionamento, comunque, vado a casa, mio padre era un funzionario della prefettura, di Avellino, incazzato dal mattino alla sera, quindi non era una persona con la quale si poteva parlare di questo, queste cose qua, lontano, volevo la chitarra, mi ha regalato un ombrello, questo tanto per capirti, e dice, ok, allora, a un certo punto, a un certo punto, a un certo punto, siamo a tavola, come si usava a quei tempi, che si mangiava ancora tutti in famiglia, non che adesso, che si mangiano i panetti, cose così, così, col telefono nero, quello sulla parete, con l'occhetto, regolamentare l'occhetto, squilla al telefono, va mia sorella, che era più piccina, Paola, tre anni di meno, corre, va, diciamo, nel corridoietto, viene da me, e fa, c'è un tuo amico scemo, che dice di essere gobi, io rispondo, sento lui che mi fa, signor Carletta, allora, oggi alle cinque e mezza, a casa mia, che ci devo dire una cosa, il cuore, grazie, grazie, tutto sudato, sono andato, in cucina, e hanno voluto sapere, e dico, si si ragoni, mio padre, si subito, come vai, ti distrai, ti distrai, allora, sa qua, gli ho spiegato, e quindi, io mi sono presentato, sono presentato, anche da sua, e lui mi ha detto, ho parlato con un mio amico, che si chiama Aldo Trabuco, che ha una scuola di recitazione, che si chiama, Ermete Zaccone, in via Ippolito D'Asta, e lì, gli ho detto, di andare, di fare un provino, e vedere, se questo ragazzo, può imparare, cominciare, a imparare la recitazione, cosa deve vedere da nero, mi fa un suo biglietto, che c'ho ancora, e mi dice, questo è un biglietto, di presentazione, non è una raccomandazione, e allora, io mi sono recato, da questo, signor Aldo Trabuco, che allora, era stato il fondatore, del teatro Duse, a Genova, che era, in piazza Donaseo, un teatro, che era una rotonda, fatta teatro, tu te le ricorderai, queste cose qui, perché sei stato del mestiere, ti ricorderai anche, di Trabuco, penso, e a un certo punto, mi ha fatto, leggere una cosa, e mi ha detto, questa qui, io che avevo, una voglia di studiare, penso di Pirandello, solo impara a memoria, per giovedì, fai conto, che era martedì, quindi una cosa, da sudori freddi, e da lì, io sono partito, ho iniziato, a fare la scuola, di recitazione, poi chiamavo, Govi ogni tanto, gli dicevo, come andavano le cose, lo andavo a trovare a casa, al punto tale, che sono passato, dalla catenella, il cane, al punto che la Rina, mi diceva, guarda un po', se c'è un po' di posta, che così poi, veniamo a prendere, questo è un episodio, che ho voluto ricordare, un grande personaggio, e come è stato l'Abriglio, l'Abriglio, poi, è mancato Govi, un grande, un grande funerale, il primo funerale a Genova, dove hanno fatto un applauso, che io, mi ricordo, era già, quasi una cosa sconsacrata, invece poi, quando lui uscì, dalla chiesa di Santa Zita, mi pare, o Santa Rita, così, inviai, Santa Rita, lì in corso, voi lo sai, Santa Rita, e io con i Santi, non è che sia, e lì, e lì, poi, ci fu un teatro stabile di Genova, con Squalzino e Chiesa, che aprirono la scuola, e io poi, subito dopo, entrai alla scuola di recitazione, il primo anno, dove poi, c'era anche, Mario Menini, mi pare che, anche lui è stato, presidente della circoscrittia, insomma, varia cosa. Allora, detto questa, ecco, sul discorso dell'ambizioso, adesso che, voglio dirvi, io quando, questo, per rientrare, e ridipingere un momentino, quello che è il carattere nostro, dei genovesi, io, avevo finito il militare, avevo fatto l'ufficiale degli Alpini, ero appena rientrato, e ho rischiuto a Economia e Commercio, e mi sono fatto il mio primo, il mio primo test, alla scena, perché dovevo lavorare, sì, far l'attore, però bisogna, poi mi ero innamorato, con i soliti casini, e quindi io avevo lasciato, un po' perdere, e ho detto, seguiamo la strada, vediamo di fare tutte e due le cose, e avevo fatto un colloquio, con una psicologa, la quale, come ultima domanda, mi ha detto, ma lei, amico Carlo Cicala, che è da adesso, grande cabarettista, poi gli facciamo dire due parole, con le canzoni capriolini, allora, mi dice, la psicologa, ma lei è ambizioso, dato che io sentivo sempre, quello è ambizioso, quello è ambizioso, io ho detto, io no, per l'amore, e allora, ma non ci serve, perché ricerchiamo tutti, amici oggi, tra l'amore, come sono, a Genova, come girano lì, va bene, allora, io ho scritto, qualche anno fa, questo libro, Genovesi, quelli del Belandi, come se provenissero, da un paese lontanissimo, il Belandi, che cosa, anche perché, non potevo dire, Genovesi, quelli del Belino, è una cosa che non sappiamo noi, diciamo, ma gli altri, noi lo possiamo perdere, e quindi, questo paese lontano, del Belani, come il Burundi, che veniva, in cui, si racconta, e qui, più che altro, ci sono tutti gli appunti, che io, mi sono preso i discorsi, le chiacchierate fatte, e poi, via via, quando, l'editore, mi aveva chiesto, l'editore, sonda, delle guide xenofobe, che sono, avevano fatto, tutti, libri su varie, città, sui triestini, sui napoletani, sui romani, sono venuti da me, mi hanno chiesto, se io potevo fare qualcosa, sui genovesi, però, il libro doveva essere, un libro comico, dato che i genovesi, sono sempre, che già sempre omerini, in certo punto, dico, come faccio a scrivere, un libro comico, però, in effetti, diciamo, la verità, che l'humus, l'anima genovese, è un'anima, fortemente umoristica, hanno un grande senso, dell'humor inglese, molto pizzicante, è un humor diverso, da quello, che può avere il romano, il napoletano, il siciliano, perché, è un humor da scottò, da presa in giro, da doppio senso, tant'è vero, che io ho riportato, qualche, qualche battuta, sui genovesi, e allora lì, sono andato per argomenti, e ho raccontato, sempre in chiave, umoristica, ilare, quello che è un po', il nostro profilo, la nostra storia, io vi leggo, velocemente l'inice, poi ogni tanto, mi ferma qualche passaggio, per, poi quando non ne avete più voglia, ve lo dite, lui mi ha detto, guarda, bisogna fare, minimo mezz'ora, però poi, vai e dici tu com'è, come tira, quando qualcuno sviene, capisci, c'è il momento, che io mi... Allora, lì dice, il grifone, alza la coda, perché voi sapete, che questo grifone, la coda, ce l'ha buttata assata, anzi ogni tanto, se Franco, vuoi intervenire, c'è qualche argomento, che ti stuzzica, intervieni pure, perché qui andiamo, un po' come il formaggio parmigiano, tiriamo giù, un po' così, qua e là, no, però ogni tanto, c'è qualcosa, che può venire, a qualcuno, può interessare, e c'è la storia del grifone, che aveva veramente, la coda, e le gambe, che credo, che siamo stati in Savoia, a fargli la mettere, però poi è arrivato Perico, e gliel'ha fatta, alzare, che tutti i politici, tirano sempre a farti, alzare la coda, per essere più comodo, per la penetrazione, e poi è uscito fuori, anche la storia, che noi volevamo essere, annessi al Piemonte, c'è stato un momento, in cui sembrava, che la capitale, diventasse Torino, e quindi, che la Liguria, diventasse una colonia, del Piemonte, è vero, che poi ho scritto, Pierguria o Limonte, perché poi, dico, se si fondono, è un po' come i Mandaranci, facciamo una cosa, ma se che penso, ho fatto un capitolo, ma se che penso, perché la canzone, cantata da Cappello, la cantava, mi diceva mio padre, che ero un grande, come tutti gli uomini, che lavoravano nello Stato, avevano i biglietti gratis, del cinema e del teatro, e lui andava spesso, a vedere, la va a spettacolo, forse è da lì, che è nato il mio desiderio, di fare il comico, perché vi siderò, adesso mi viene in mente, un nome, te lo ricordi, Visiderol, che era un piccolino, che sembrava, vedete, io ogni tanto, tiro fuori dal cilindro, qualche nome, che qualcuno magari non lo sa, però è bene poi ricordare, che faceva, era? esatto, 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 era la sua subretta, allora c'erano queste subrettine, malprese, eccetera, e quindi attraverso il, il, il varietà, devo dire che a me, venne veramente poi questa voglia, di fare, di fare il comico, e c'era Mario Cappello, che cantava, ma se che penso, e tutti che piangevano, disperati, e quindi è diventato, l'inno dei genovesi, è come l'inno di Mameli, praticamente per noi, solo che i genovesi, la cantano, anche fuori in tema, perché io capisco l'argentino, che è 30 anni che è lì, che sta a Caracas, oppure quello che sta a Caracas, a Buenos Aires, eccetera, e canta, hanno la loro associazione, ma quando uno sta 15 giorni, a Courmayeur, e dice, ma se ne penso, allora mi vedo un ma, vedi ma, togli di tale, vale, prenditi una casa a Varad, e vedi, io non lo so, sono i genovesi, sa questa cosa, va bene, un, un belì di carattere, su questo, non c'è nulla, non c'è, perché qualcuno dice, se entri in casa, non genovese, puoi entrare in tutte le altre case, sarebbe una cosa, uno slogan per i labri, ma, una volta mi ricordo, un colonnello comandante, dei carabinieri, che eravamo stati invitati, a girovi ufficiari, mi ha detto, signor Carletta, e quattro anni, che io sono a Genova, non mi ha ancora invitato, un cane in casa, e dico, guarda, non si prenota, se fosse stato della finanza, l'avrebbero invitato, a più volo a Genova, sono le cose che, e allora, io in questo, venire di carattere, ci ho messo, timido o maleducato, perché poi, molti, scambiano, questo carattere, di timidezza, con la maleducazione, per esempio, nell'ascensore, lì si vede, proprio il genovese, cioè, il carattere, estroverso, del Ligure, dove lo vedi? Quando, l'ascensore, va, e tutti, leggono le istruzioni, da 40 anni, tu, per esempio, il genovese, poi se si ferma l'ascensore, non si parla, piuttosto che dire, così, una cosa, quando li liberano, dopo due giorni, non si cagliano neanche, non si salutano neanche, due giorni, col panerino, quindi, il genovese, è su marciapiede, c'ha una vista, il genovese, lontano, 30 anni, vede uno, che potrebbe salutare, beh, il mio avevo, non è prima, cosa fa? Lui cambia, l'altro cambia, passano praticamente, il campo, che poi, a furia di cambiare, si ritrovano di nuovo, sull'antel, dei genovesi, tante, se ti prendono per il culo gli altri, non ci possiamo dire, perché non c'è un genovese, che parli bene di Genova, che parli bene del singaco, questo, primi, 12, 14, 15, 16, tutti Luigi, non c'è un Luigi che gli vada bene, non c'è un'opera che gli vada bene, il genovese gli fa tutto male, il bicchiere non è mezzo vuoto, non c'è neanche il bicchiere, quindi, le abitudini, il mani in mano, mani in mano, mani in mano, eh, sciverini, stasera mi presenti la ragazza, ma mani in mano, poi non me la dà, mi tocca spendere, ma non c'è un'opera, mani in mano, guarda quella bolletta lì, mani in mano, ci hanno invitato, perché poi a cena, Ci hanno invitato a cena, andiamo a cena, mani in mano, poi ci rompiamo le balle, ve ne passiamo la serata, che mi rimane qualcosa sullo stomaco, e il mani in mano, il mucugno, diritto al mucugno, ne avrete parlato, è il famoso diritto di attavita memoria, dove si doveva pagare questo diritto, perché, eh, quindi ci sarebbe dare, bisognerebbe rimetterlo nelle trattative sindacali, no, quando uno fa adesso la Fiat che è uscita dalla confinuzione, e mucugnate, ve ne intoniate finalmente questa cosa, e rimanete dentro la confinuzione, no, c'è ti era bene, c'è ti, ma vuoi ciò di, ma in alto, ma vuoi ciò, tu pensa all'intelligenza, la raffinatezza del Ligure, che venì, proprio subito, pensa alla responsabilità civile, a quello che gli potrebbe pagare di avvocato, perché il genovese, quando pensa a qualcosa, pensa subito all'avvocato, la donna pensa al notario, in genere, speriamo, che ho un segno, le vedi da mangini, pieno di velo, le donne, le genovesi appena nascono, la prima cosa che pensano, speriamo di diventare presto, vedo, va a fare in crociera, speriamo, con acqua, il genovese invece tira, ad andare in pensione, prima possibile, perché, uno che vive al mare, e che bugugna, non ha voglia di rifare, diciamolo poi, i genovesi, non hanno voglia di rifare un belino, cioè, non è una città di lavoratori, noi non ce lo possiamo dire, una volta dicevo, che è un bacano, ma il bacano era il padrone, erano i fascio, i cosuli, i cipasevi, che venivano poi anche dal Trieste, gente che veniva da fuori, c'era il parodi, quello che girava in 600 con l'autista, capisci, i parodi, venì, venì col capotto risvoltato, venì, quelli che venì giravano le buste delle lettere, venì cose bestiali, il genovese, il dipendente, non c'è quello di fare lì, perché guarda, adesso per esempio, che c'è il sole, i genovesi, a parte i merinoni come voi, che siete venuti, ma dove sono? Sono ormai, voi dicevano, come mai c'è tutta questa gente in giro? Quindi, quelli che lavorano sono donasi, a parte, perché c'è il sole, ma che c'è il sole, che citiamo degli spittori? Allora, mamma usciuti, che sembra una cosa, che tu senti, è un ceto, che ti fa pro, ti fa pro, Dimmi, ti posso dire una cosa? Di malattranquillo, ma posso dire, stai tranquillissimo. Allora, mamma usciuti, e quindi, ci tuteliamo. Poi cosa c'è, abbiamo, shushai shurbi, guarda che anche quella lì, è una cosa di un'intelligenza, che, il genovese, tutte queste cose qui, insieme, non le riesce a fare. Voglio dire, capisci, anche nei rapporti sessuali, si fa una cosa per volta, cioè, non mi puoi far vedere il kamasutra, tutti insieme, che mi incasino. Oh shushai, oh shushai, oh shushai, hai capito? Hai capito anche, non so se avete capito il parallelismo, il simpatico parallelismo. Oh shushai, 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 ma che questa non è venuta, eh, adesso non è venuta, poi, zelese, risureo, dicono, però poi, al di là di questo, devo dire che il genovese, in genere, quando è fuori dalla propria città, è brillantissimo, perché lo vedi, che venire, è simpatico, racconta le parzellette, è diventato amico, ti invita anche a cena, ti offre l'aperitivo, più lì sei lontano, lo conosce alle maldive, poi io sei ma mago genovese, se poi per caso, questo genovese, che lo vedi così simpatico, che ti dice, perché ogni tanto il genovese si tradisce, inciampa in certe avveninate, che non si sa, ti dà il biglietto da vista, se per caso venite a Genova, fatevi vedere, voi siete di Bergamo, vi aspettiamo, volete, è vero, la montagna, come torna a Genova? Ascensore? Di Tascalie? Se è quello lì di Bergamo, dopo due mesi, mette a tre, va per lavoro, casualmente, che è in transito, che lo chiama, gli dice, ciao sono Gianni, Gianni chi? Ma quello di Bergamo, che ci siamo conosciuti alle Maldive, i signori non sono in casa, sono in partita, dall'Ave Maria, e piccoli di devozione, belli, ma lo sapete perché hanno messo, nei canucci, cioè nel centro storico, ci sono tutte queste cose, le madonnine, le devote, eccetera, perché da quello, mammo sciudini, che le mettevano al tempo, intanto per essere un po' ruffiani, nei confronti del clero, che faceva sempre, hai visto, dopo lì c'è la madonnina, allora vuol dire, dentro la casa, c'è dei casini, perché, però, come in casa di Silvio, uguale, anche ad Alcore c'è la madonnina, però non è che, quello che succede dentro, è un'altra cosa, e allora, poi la madonnina, dov'è che c'era? Accendevano i lumi, quindi era uno spazio luminoso, che si teneva illuminato, e poi non ci mettevano la rumetta, aveva anche una sua, perché la rumetta sotto la madonna, e quindi aveva anche una sua funzione ecologica, e allora, e allora, dalla, 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 al belin, cioè, a un genovese, che gli toglie, io mi ricordo da bambini, da ragazzi, in giù, togli di qualcosa, quella brutta parola, che non si deve dire, togli di, eh, se togli una cosa così, ha la, ha la parola di una persona, belin, capisci, no, non sei, qualsiasi, è un prodotto, che si consuma, in qualsiasi, tipo di, di stagione, è un quattro stagioni, va bene per tutti, è come la margherita, cioè la pizza, quattro stagioni, e lo consumano, i vecchi, i bambini, i piccoli, i ricchi, i poveri, insomma, tutti, e allora io, proprio su questo, ho voluto fare, vi leggo un pezzettino di, di libro, relativa al belin, che dice, è nato così, il popolo del Belandi, che non è, un lontano paese esotico, ma ho modo di dare al belin, la dignità di una vera e propria, declinazione semantica, Belandi, ne è la più diretta, e praticata sostituzione, per esempio, Belandi, complimenti, ragazzi, la cui clonazione infinita, Belan, Belero, Belera, Bellissimo, Bellicite, Berrettin, tutte parole, che se pronunciate, in un certo modo, magari con quella espressione, un po' così, esprimono, lo stesso sentimento, una sorta di energico compiacimento, per una cosa fatta, da altri, ma i significati, della parola più amata, dei genovesi, di ogni età, non esaurisce, qui, non mi importa un belin, non si vede un belin, inteso, come nulla, non mi importa nulla, non si vede niente, Belinù, e a Belinò, sciocco, cretino, Belinà, rapporto sessuale, Belina, persona sgradevole, di cui non ci si può fidare, Belinetta, persone di poco conto, mediocre, Belinone, stupidotto, Belinù del Coupe, segno, stesso significato, di cui sopra con riferimento, ai semi delle carte, ma in Belinò, ma riuscito, ma l'ho fatto, in Belinasse, inciampare, ma anche buttarsi in qualcosa di rischioso, desbelinasse, arrangiarsi, farsi furbo, imparare a fare qualche cosa, me ne embellino, espressione di entusiasmo e contentezza, tipo, me ne compiaccio, Belinismo, essere pieno di storie, in genere di stupidaggini, Belinata, stupidaggini, Belinata per la testa, grizzli per la testa, cosa stai facendo? Uno va in Belin, non vale niente, menasse, un Belin, annoiarsi, menà, un Belin, prendere in giro, me ne batto un Belin, non me ne importa niente, lavorare malamente, vai a menà di Belin, vai a rompere le scatole qualche un altro, avere un Belin, essere stufo, stanco, avere un Belin, inverso, essere contrariato, su sa un Belin, dar fastidio, e così andiamo avanti, perché abbiamo una traduzione, infinita, quindi, vedete che poi noi passiamo dalle bellonne, a una cosa di questo genere, vai, io ti ringrazio gentilissimo, e si capisce una cosa, che tu non vai in bagno, perché in genere siete sempre i due, una che la compagni, invece se vada sola, vuol dire che va proprio via, se fate la coppia dei carabinieri, una guarda che non entri nessuno, a Genova che vuoi che, ciao, grazie, 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 franchino piccolo, grazie a franchino, vedo tanti miei amici, Genova città aperta, io ho parlato, l'ospite come il pesce, e qui non c'è da aggiungere altro, ho parlato del G8, G8 colpito, affondato, infatti, come la battaglia navale, parcheggio, questo sconosciuto, ecco, il parcheggio, voglio fermarmi un attimino, sui parcheggi di Genova, ora, e da lì esce fuori l'animo genovese, le chiamano isole azzurre, tu pensa, come sono contorti, quelli che hanno scritto queste cose, le zone blu, l'isola azzurra, uno dice, Peter Pan, dove sono capitato, isola azzurra, zona blu, culi neri, allora, tu vai in Corsi Italia, che hanno tentato di farla diventare un carugio, perché era, ha un'unica strada, ci sono questi belini vigili, perché, sui vigili, ve li ricordate come erano i vigili, quando eravamo ragazzi noi, i cantoneri, alti, belli, robusti, ti danno, fieri, ti danno un senso di sicurezza, adesso, sono delle messeghe, velini, alto metro e venticinque, velini, li prendono, velini, non lo so, in Sardegna, adesso sono alti, confronti a questi qui, velini, ausiliari, spie, assistenti spie, velini, io, più, più malbecciati, come dice, le cuscine non si perdono, e allora, tu li vedi, i ragenti, con questi borsoni, della Madonna, con queste cose, questi librinotes enormi, con questi casti, che si è morenato, ragazzi, quando faceva colazzere, e vanno lì, e spariscono, spariscono, lì, per esempio, in Corsi Italia, erano dietro le, le palme, che facevano i dati, spuntavano i dati, perché, poi, vai per esempio, in Piazza della Vittoria, che a un certo punto, tu, posteggi, due secondi, tac, sparito, ti vedi la multa, e dov'è? Dov'è? Per quello che c'è, la piazza del Milito è ignoto, il Milito è ignoto, capito? È ignoto, e tu ci hai messo, mi ci prendo. Allora, su questo, un altro piccolo annettuto, io sono andato, qualche tempo fa, la voce a pagare una multa, e ho fatto una leggera contestazione, però, quando faccio delle contestazioni io, mi dicono, anche per la strada, mi dicono, ma lì, signor Carletta, mi era così si pari, ma lì, mi mortifico, che non c'ho più coraggio, di dire niente, capisci? È uno svantaggio, patente, uno che è una merda, a merda, signor Carletta, mi ha detto merda, proprio lei è un comico, no, volevo dire, mezza merda, scusi, e, allora sono andato dai vigili, e mi dicono, ma, signor Carletta, cosa è successo? La contestazione, deve pagarla, eh, su, insomma, non c'è niente da fare, ti sconosci, tu senti, tu senti, è un Carletta, eh, allora se va a posto, se va a posto, allora la pava, eh, sì, va bene, allora, ma posso raccontare una parzelletta? L'ho detto io ai vigili, ma siete a venire, ok, poi gli dico, ma siete un poverino, ragazzi, anche a voi, eh, gli ho detto, perché dico, sono l'unico che aveva resistito, che rido, se di, eh, mi rimane, ti piace, sono io ogni tanto, dico, una pelinata e rido, pensa, poi mia mamma dice, hai, ti chiedo, sei, che t'attesta, sempre, allora, vado, allora vieni, che c'è un carretto che conta la parzelletta, voglio raccontare una parzelletta sui vigili, no? Ah sì, sì, non è che, no, noi siamo tutta gente, va bene, allora, è la storia di un vigile di Genova, che d'estate c'è la famiglia Celle, che va al mare, la famiglia è una bella moglie, signora, bruna, molto suadente, accattivante, e va con i genitori, e anche con i bambini, e il vigile sta tutta la settimana a menarsi alla Genova a fare le multe, però poi finalmente il sabato va a Celle a trovare la moglie per il fine settimana, essendo una moglie giovane interessante, lui dice, senti un po', tutta la settimana, sono a Genova, usciamo un po', i bambini tengono i nonni che si occupano di due, e i due vanno sulla spiaggia a Celle, con questa bella luna, le stelle, un momento suadente, così, e lui viene, rapito, c'è tutto uno scacchieramento ormonale, e allora la butta sulla spiaggia, e fanno l'amore, in quel mentre, mi stanno consumando, che è sempre una bella parola, consumare, che noi non ci consumiamo quasi più, diciamo, e passano due vigili di Celle, che vedono questa scena, e dicono, ma cosa succede? Vergogna, ma lo sapete che questo, che sono antiosceni in luogo pubblico, cosa state facendo? Qui bisogna, bisogna fare subito un verbo, ma questo qui, tutto arrossato, tutto che si sistema, va dai vigili, scusate, avete ragione, ma cosa volete dire fuori la testa? Io sono un collega di Genova, e va bene, per te chiudiamo un occhio, ma quella bagaggia lì, la vediamo tutte le sere, la vediamo tutte le sere, è un modo di pagare le multe, anche questo, quindi sai, il cabarettista ha le sue piccole vendette, i suoi modi di vendette, allora, dove la fa mancata? Allora lì, il centro storico, centro storico, guardate, sul centro storico, io vi posso leggere una piccola cosa, che, come dire, io quando ero ragazzo, c'era mio zio, che era un commerciante, mi diceva, il centro storico, bisognerebbe metterlo un po' a posto qua, non è, e io parlavo sempre, era il periodo che ero bambino, andavo a prendere i blue jeans, i blue di Genova, era arrivato all'entreprise, andava americana, vedevamo gli americani, avevano le chesterfile, le bagaggia mangiavano i cibo, che era tutta una cosa così, noi avevamo qui, i blue jeans duri, duri, che quando arrivavi a casa, qui smontati, un mare alle palle, i cugiati, i cugiati, siamo dei cugiati, proprio rovinati, con quelle cose, poi andavi con le ragazze, le ragazze erano, le mamme delle ragazze erano tranquille, finché portavano i blue jeans, e allora, il centro storico, venite a trovarlo, sto venendo il centro storico, avevo scritto, aspetta, aspetta, che venisse che siamo, pagina 50, tu vedi qua, bisogna andare per pagina, sai cos'è che qua non manca, eccolo qua, questa specie di città proibita, proibita, è formata da tre sestieri, quello del molo, della Maddalena e di Pre, che formano un arco, che accompagna il porto, i cui confini partono dalla zona di Principe, per terminare giusto al molo, ma vuoi dire, l'angiporto della città, è il centro storico più grande d'Europa, una vera e propria città della città, fita di vicoli strettissimi, dai nomi più stravaganti, vico dell'amor perfetto, vico indoratori, vico vegetti, vico velenoso, vico uso di mare, vico squarciafico, vico saraceni, vico della scimmia, vico del tempo buono, insomma centinaia di carugi, strette gole, da cui si intravedono squarci di cielo, sul gran pavese di Lenzuola, stese tra una finestra e l'altra, di nobili e meno nobili facciate, che pare vogliano baciarsi. Alle multietniche atmosfere, dal sapore levantino, si assomma il profumo del mare, che scivola sulle spezie, esposte su grandi sacchi di juta, e l'odore forte e seducente delle frigitorie di sottorippa, traboccanti di farinata, cuculi, panisette, castagnaccio, stocche e polpo bollito, sospinto dalla tramontana, che corre fredda e veloce, tra i vicoli e i portici. piccola pennellata, della nostra azione. Grazie, perché dentro il cuore di un comico batte sempre un po' di poesia, anzi, soprattutto più poesia che comicità, è dalla poesia che nasce. Ma questo è un altro discorso che potremmo fare in un'altra serie. Io ho scritto San Camallo del Porto, vi spiego, perché io ero diventato amico di Battini, perché io ho fatto una miriade di spettacoli di beneficenza, veramente, dalle carceri, negli ospedali, tutto, ormai praticamente faccio solo beneficenza perché non mi paga più nessuno. Sono come bambi, cioè io e te andiamo più o meno sulla stessa linea. Io ho pensato che la prossima volta che mi invitano porto la voletta del gastico, se si volete disturbare. Ecco, una cosa di me. E Battini mi invitava spesso alla compagnia unica che si chiamava CULM, CULM, è il CULM, non il BUS del CULM, è il CULM, compagnia unica lavoratori mercilari e io facevo gli spettacoli. E su questo mi viene un altro aneddoto, perché gli aneddoti, una cosa che lui sa bene, perché è stata risonante, c'è stato un momento di litigio tra Roberto D'Alessandro, che allora era il presidente del CAP, Consorzio Autonomo del Porto, quindi l'autorità portuale per eccellenza, che io conoscevo bene, e Battini. E allora, chi è intervenuto come mediatore? L'allora Cardinal Giuseppe Siri, che io ho conosciuto anche perché era genuano e quindi noi abbiamo avuto anche la possibilità di raccontarci anche delle baggellette, diciamo. e a un certo punto quando Siri è arrivato accompagnato con la sua macchina, con l'autista, è arrivato alla CUNU, uno dei portuali è andato ad aprire e gli ha detto mi raccomando, eminenza, mi raccomando, c'è che dà una mano, la storia, si tratta di un pan, e dice un pan, ma dà una mano, un pan, ma non un pan, un pan, un pan, una famosa battuta di Siri, no? Quindi, dal porto, poi io avevo conosciuto un po' tutti i segreti e mi raccontavano gli aneddoti dei portuali e avevo scoperto che c'era un calendario dove a posto dei nomi dei santi avevano messo i, diciamo, i soprannomi dei camali, cioè praticamente si erano fatto 365 santi loro, no? Con i loro soprannomi e allora io ho voluto dedicare questa cosa curiosa perché ancora oggi se voi volete sarebbe interessante andare a cercare e tirare fuori questo calendario e pubblicarlo sulla compagna con qualcuno di queste cose perché la nostra storia parte anche e soprattutto da lì dove ci sono le partenze e gli arrivi, eh? E allora San Camallo del Porto l'ho chiamato così proprio in riferimento al calendario. I camali sono figure di tale peso che si sono autocelebrati dedicandosi un calendario in cui i giorni non riportano i nomi dei santi bensì i loro soprannomi detti nomi agili. Nel Porto di Genova c'era infatti l'usanza di affibbiare ai lavoratori ma questo succedeva anche quando noi eravamo ragazzi nei tempi antichi perché la gente non ti chiamava per cognome o come adesso sono tutti dottore, comandatore, ingegnere, amministratore delegato sempre belline solo, mi eravamo allora anche adesso solo che la barriola arrivò un testù mi ha detto poi quello era diventato poi magari presidente di una società petrolifera. Di affibbiare ai lavoratori un nomignolo che sottolineava un difetto fisico o una qualità. La città di provenienza ha un tratto del carattere una mania o abilità. O rimaneva qualche episodio in cui l'interessato si era reso protagonista. Sono nomignoli che nascono da uno spirito sagace e inventivo e mai con l'intento di ferire o mortificare. Un sano sfottò per combattere con un po' di umorismo la fatica e le gelide sperzate di vento sulle banchine del porto. E allora vi dico qualcuno un egro d'oppugno uomo alto e robusto che con un pugno fece stramazzare al suolo un toro infuriato fuggito dai macelli di cadempita. Questi sono tutti personaggi realmente esistiti. Maciste nomignolo attribuito al camallo Bartolomeo Pagano che interpretò questo ruolo nel film Capiria di Gabriele D'Annunzio nel 1914. Urelio o faccia sia l'Aurelio il faccia gelata o caga greu il caga grosso Gigi o bala ben Luigi convinto di ballare bene Picchè giù un pidocchio forse per la sua avarizia Brillantina il Brillantina perché amava frequentare i locali eleganti Sette Merde e qui si capisce lo chiamavano amichevolmente Sette che capivano poi Confidenza Sette pellicola perché era così brava a manovrare la gru che a vederlo sembrava di essere in un film As e Do As e Lodoro ignorante ma ricco Bacioccu elegante caga Biglia testa rotonda e pelata Caramba originario dell'Argentina Cruvata cravata per il busto sempre elegante Eju Bugiu Occhio sballato bollito Fugassetta dal viso magro Gambe elettrica Giudino Sette Die Niera perché Niera mi ricordo che la Niera noi da ragazzi soprattutto eravamo specializzatissimi diciamo Lingua d'oro uno che parlava bene eccetera eccetera Lingua d'oro poi si potrebbe parlare anche di uno che invece tira fuori quindi venete anche lì c'era questa meravigliosa tradizione poi ho parlato degli anziani cioè come si fa a non parlare di Genova e non parlare dei pensionati non parlare degli anziani cioè Genova è una città che ha un'altissima percentuale di anziani e una bassissima percentuale di nascite tant'è vero che non fanno del traffico di droga ma fanno del traffico di Viagra per alzare il coso come si chiama l'indice demografico hai capito perché Genova ha bisogno di nuove nascite e diciamo uno degli uomini preferiti dei pensionati genovesi è controllare i lavori in corso del comune di Genova ora se tu vai vedi un buco dentro la strada con un operaio dentro immediatamente vicino come una sentinella ci trovi un pensionato che è a mia questo è il lavoro che fanno i nostri le pensionate che 99 su 100 sono vedove come vi ho detto che è un grande amerito della genovese 50 anni speriamo diventare verova ma non così tardi insomma avere ancora la possibilità di farvi una trentina di crociere le trovi da mangini alle 5 5 e mezza che prendono il tè loro c'hanno tutte belle pittate c'hanno i pendini c'hanno il giro il giro il collare con la medaglietta con il decuius che gli fanno fare il bagnetto e poi dico c'ho un vuoto dentro c'ho un vuoto dentro un vuoto dentro mio marito tre marito tre mariti tre matrimoni tre funerali tre appartamenti meno male c'ho un vuoto dentro poi si rivolge al camere mario portami un buono uno sette o toccano il tre pan dolce che c'ho un vuoto questi sono gli altri i comici i cantautori la nostra poi parlo anche di altre cose tutte le cose delle nostre grandi tradizioni purtroppo ormai avevamo dei teatri importanti e li hanno fatti diventare dei supermercati botteghe qualcuno passa da qualche parte e vede che c'è un cinese cioè non c'è quell'epoca lì ormai è sparita un'epoca d'oro solo i vecchi ricordano e sospirano è una Genova è una città piena di contraddizioni nel carattere nel modo di essere guarda caso che ha dato vita a due due tipi di di scuole la scuola dei cantautori detta la scuola dei cantautori genovesi e che sono quasi tutti suicidi perché tutti hanno tentato di ammazzare qualcuno c'è riuscito Gino Paoli gira ancora con un pezzo di ilico però diciamo l'Alzi è morto Bindi è morto Di Andrè è morto il quando vedo Gino Paoli gli parlo della scuola dei cantautori lui gira con le mani da salvaguardia tanto è vero che sui cantanti poi questa famosa scuola dei cantautori genovesi è inesistente è inesistente perché ve lo spiego subito io l'ho anche l'ho anche scritto in un pezzettino poi questo libro non so se in circolazione l'ho presentato al palazzo Tursi in un in un tripudio di vasi di basilico intorno a me perché c'era tutta la sala del Gran Consiglio piena in mio onore di vasi di basilico poi mi sono portato dei cantautori che hanno cantato le canzoni della grande tradizione e mi sono portato anche qualche comico tra cui anche Carlo Cicara che vedo che è sparito ma comunque vi racconto questa dei cantautori quindi non solo non esiste una scuola nel senso che nel senso accademico nel termine ma si avanzano anche dei dubbi sull'autentica genovesità dei cantautori Gino Paoli è nato a Monfalcone Bruno Lauzzi ad Asmara Paolo Conte condivide con Luigi Tenco le origini piemontesi e Fabrizio De Andrè nonostante il rapimento ha continuato a risiedere sino all'ultimo in Sardegna genovesissimo invece il compositore Giorgio Calabrese nonostante il cognome qui vi vedete che è la scuola e poi c'è la scuola dei comici cioè proprio per questo questo humus un po' di cattiveria di voglia di sfottere di prendere il giro io sono nato in piazza Martinez dove è nato Beppe Grillo Orlando Portento che non è una cosa da citare tanto la camellata che lui è avveninato ma non lo vuole ammettere cerchiamo di dirlo in tutti i modi ma non c'è verso è nato anche il Donato Bilancia ahimè cioè noi siamo nati a San Fruttuoso che dal nome sembrerebbe un santo protettore degli interessi bancari San Fruttuoso ma non ha mai affruttato un benino di niente l'unico che ha fatto il grano è stato Grillo l'unico del giro e quindi non mi ricordo quando eravamo in piazza Martinez il nostro hobby era sedersi su una panchina vedevamo a passare qualcuno e prenderlo un po' un panino prendere in giro le persone allora da lì nasceva e poi prenderci in giro tra di noi e quindi la forza non era tanto nel tirare fuori i muscoli quanto nell'essere più veloci nella battuta chi era veloce di mente era il più bravo ed era il più rispettato quindi l'arguzia poi era quella che ti premiava e che poi abbiamo capito che ti avrebbe premiato anche nella vita perché con la dialettica hai un passepartout diverso da quello che rimane il secondo mondo tu lo sai meglio di me Franco e poi è nato Paolo Villaggio dalla sua grande cattiveria ha inventato Franz Kranz ha inventato Fantozzi poi da lì sono nati tantissimi altri sottoprodotti ne citano alcuni Leiene Luca Bizzari Paolo Chessisogro i Cavalli Marci Adolfo Margiotta e Massimo Olcese Carlo Pistarino Enzo Braschi Stefano Losei Ugo Dighiero insomma tantissimi altri personaggi che hanno ce ne sono veramente tanti genovesi che poi hanno preso la strada dell'arte io non so mi pare che ho sforato dico ancora una cosa e vi lascio in questo libro non potevo non parlare della cucina non potevo parlare del pesto che ho definito l'unica salsa al mondo senza consumare una lira di gas il pesto e soltanto noi genovini potevamo abbiamo avuto Genova non soltanto da ridere non soltanto musicale ma anche una città di cultura tant'è vero che il 92 è stata capitale della cultura adesso una cultura un po' a brettio però proprio legato e noi abbiamo avuto dei grandissimi poeti tra cui Eugenio poi campanella però proprio di Giorgio Caproni voglio dirvi questa firpo il belui era già dialettale questi erano più avevano sono guadagnati voglio io direi di concludere così così che concludiamo con una cosa seria perché il comico alla fine deve dare una motivazione e allora voglio chiudere con un pezzettino di poesia di Giorgio Caproni che parla della nostra città che è una città tutto sommato importante anche se ci sono tante salite da fare e precipitose discese però questo ci ha fatto sì che ci ha creato carattere no? in qualche modo e ce la fa e continua a farcela amare Genova città pulita brezza e luce in salita Genova verticale vertigine aria scale Genova dove non vivo mio nome sostantivo Genova di tutta la vita mia litania infinita questo è l'ascensore di Castellini grazie grazie questo libro edito da sonda lo potete trovare da Feltrinelli da Mondadori chiunque magari adesso non hanno più la scorta però se lo richiedete la casa editrice ve lo farà avere perché ci sono ancora tutti gli invenduti che credo che io ho in vita che mi hanno maledetto da anni e quindi gli fate un favore poi Natale ci vuole un attimo no? quindi voi arrivate prima lo prendete anche adesso sotto saldo perché pur di toglierseli di mezzo credo che l'editore si rotoli come una foca e quindi vi farete quattro per gli usati grazie ancora di tutto grazie a tutti grazie a tutti per passare con un amostro come sebo perché poi siamo usciti l'esu in cielo ascensore le istruzioni e sono tutti i nomi di tutti i manutentori perché poi sono quelle lì però una cosa volevo dire a me sempre qui c'è perché ti dici quando vado a giù a gente a mamma mia una sommeggia a un carletta poi beh fatto storico vero Giuseppe Verdi abbiamo una brioche che si chiama Falstaff che è da Clay Guti che è stata dedicata a Verdi perché lui dice visto che non mi sa notta nessuno almeno ho dedicato a una brioche beh ha già saperti che le potete non so se che qualche di lunga ha una domanda da Paolo e gli altri bemmo a Finse qualche di lunga ma è una volta io ho visto il Campetto fare il prete era un prete ma è un prete mancato eh sì quella del prete mancato ci sono un po' di signore che avrebbero a ridire mi dice mi dice questa simpatica amica che quando tanti anni fa in piazza Campetto quando ancora c'era Mario Melini che era credo presidente del decentamento culturale e allora mi venne il ghiribizzo di fare un monologo da una finestra mi prestarono uno studio di architetto che c'è ancora questa finestrella con una specie di piccolo poggiolo io mi vesti da prete con c'era un faro davanti e io avevo il microfono li chiamai tutti con la voce di Vojtila mi ricordo allora si avvenghi genovesi non genovesi puttane spacciatori drogati aspiranti Robi Carletta farà il suo spettacolo cinque minuti testa di cavolo e io ho fatto il mio monologo facevo Don Parodi che raccontava le sue avventure grazie del monologo grazie a tutti grazie nuovamente a Robi Carletta se vediamo martedì chi vede e tutti chi torna posso dire quanto c'è vede la prossima volta grazie grazie della disponibilità di Robi Carletta grazie 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 Grazie.